Draghi sembra sul punto di dimettersi e il governo di cadere dopo una delle giornate più ricche di colpi di scena come non se ne vedevano probabilmente dai tempi della tassonomia verde europea. Vediamo di ricostruirla assieme e di fare qualche considerazione. Intanto Altra Economia svela una sconcertante verità sul gas italiano mentre ci sono nuovi avvicendamenti politici in Sri Lanka e Regno Unito. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 21 luglio 2022 e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Ne sono successe un po' di tutti i colori nella giornata di ieri, in quella che è stata definita da vari giornali la crisi di governo più folle di sempre. La situazione nel momento in cui esce questa puntata, ovvero alle 8 di mattina del 21 luglio, è che Draghi è ancora premier ed è atteso alla camera questa mattina. Non si sa se per chiedere la fiducia anche alla camera, in un gesto in realtà più simbolico che altro, almeno sembra, oppure per dimettersi direttamente. Comunque ci arriviamo, intanto però vorrei come prima cosa, come al solito, ricostruire i fatti della giornata di ieri e delle ultime giornate in realtà per vedere come siamo arrivati a questa situazione e poi fare qualche considerazione finale. Come ricorderete tutto è iniziato, o perlomeno per quanto riguarda proprio queste ultime vicende recenti, con il Movimento 5 Stelle che non vota la fiducia sul DL Aiuti per via principalmente, o perlomeno questa è la motivazione ufficiale, della presenza nel DL stesso della costruzione, della volontà di costruire un inceneritore a Roma per gestire l'emergenza di rifiuti, misura alla quale il Movimento 5 Stelle è contrario. I 5 Stelle quindi non votano la fiducia, ma non votano neanche contro, nel senso che escono dall'aula nel momento del voto, la fiducia passa, ma Draghi dice che comunque è venuto o meno il patto di fiducia e su cui si basava la maggioranza di governo, va da Mattarella e rassegna le sue dimissioni. Mattarella però le respinge e lo invita a verificare la fiducia del governo in Parlamento, nel luogo deputato, così lo definisce. Nella serata di martedì succede che le acque sembrano un po' acquietarsi, tutto questo era successo il 14 luglio, quindi una settimana fa. Nella serata di martedì, dicevo, martedì 18 luglio, le acque sembrano un po' acquietarsi, Draghi vede i leader dei partiti di governo e la giornata si conclude con una dichiarazione profetica di Enrico Letta, segretario del PD, che nel suo intervento alla festa dell'Unità di Roma afferma, domattina mi sveglierò sereno, assolutamente sereno, domani sarà una bella giornata, ne sono sicuro. E noi sappiamo che quando Letta è sereno, in genere, qualcosina bolle in pentola. E infatti arriviamo alla giornata di ieri, mercoledì, che si apre con il discorso di Draghi al Senato, un discorso molto netto in cui Draghi fa una serie di accuse non troppo velate, 5 Stelle, ma soprattutto la Lega, pur senza citarla mai, però dice cose tipo che è necessario un sostegno convinto all'azione dell'esecutivo, non di un sostegno a proteste non autorizzate, talvolta violente, contro la maggioranza di governo, facendo riferimento all'appoggio della Lega alle manifestazioni dei tassisti contro le riforme nel settore, poi dice sostiene nel suo discorso l'importanza della riforma della concorrenza che la Lega ha criticato per la questione degli stabilimenti balneari e poi conclude in maniera abbastanza perentoria dicendo che all'Italia non serve una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi e quindi chiedendo ai partiti se erano disposti a ricostruire il patto su cui era fondata la maggioranza. A quel punto l'umore generale cambia, la prima ad attaccare è la Meloni che accusa Draghi di voler accentrare il potere e di chiedere una fiducia incondizionata, poi ad affondare il colpo a dire il vero è la Lega con Salvini che dopo aver così conciliato, conciliato, aver discusso per diverse ore a casa di Berlusconi, fa capire che avrebbe tolto il sostegno al governo. Draghi risponde nel pomeriggio senza cambiare posizione chiedendo la fiducia su una risoluzione presentata da Piero Ferdinando Casini che diceva semplicemente il Senato, udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, le approva, quindi di fatto è una risoluzione che semplicemente approva il discorso di Draghi della mattina che quindi chiede la fiducia sulla stessa squadra di governo, considerate che era arrivata anche una proposta del centro-destra di un nuovo governo che escludesse i 5 Stelle dalla maggioranza, proposta che però non viene appunto appoggiata dal governo Draghi, a quel punto che succede? Succede che con motivazioni diverse sia la Lega che i 5 Stelle, che Forza Italia, dicono che non avrebbero votato la fiducia uscendo dall'aula al momento del voto. Che vuol dire uscire dall'aula? C'è una differenza insomma piccola ma sostanziale fra non votare stando dentro l'aula o uscire proprio dall'aula, perché se non si vota restando in aula si contribuisce comunque al raggiungimento del numero legale, ovvero il numero minimo di presenti perché la votazione sia valida, se si esce invece non vi si contribuisce e si può anche mettere in discussione il numero legale del Senato. Comunque la destra fa questo strappo come se avesse deciso a un certo punto che era il momento di andare a votare, di far cadere la fiducia nel governo e pensando probabilmente che le urne potrebbero avere come risultato un governo nuovo fatto solo dallo schieramento di centro-destra senza altri tipi di compromessi. Un Enrico Letta molto meno sereno twitta che il Parlamento sta votando contro il popolo italiano. Per un po' sembra che non si raggiunga il numero legale per il voto di fiducia al Senato, numero che invece poi viene raggiunto, voti alla mano, credo per via di alcuni parlamentari che scelgono di restare in aula e votare nonostante le indicazioni diverse che arrivano dal loro partito, soprattutto di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle, credo, non ne sono del tutto sicuro perché non ho trovato informazioni esatte su questo. Il governo alla fine comunque appunto ottiene la fiducia, ma è la cosiddetta fiducia di minoranza che vuol dire che ha la maggioranza dei votanti ma i votanti sono una minoranza dei parlamentari perché la fiducia è fatta di 95 voti su 133 votanti ma i parlamentari, i senatori sono 315 in tutto, quindi si capisce che è una fiducia per modo di dire. In molti si aspettavano che già ieri sera Draghi presentasse quindi le sue dimissioni a Mattarella, la cosa che invece non è accaduta, ma gli analisti si aspettano che comunque vada la discussione alla Camera e il voto alla Camera, se ci sarà, questa cosa succeda oggi. Ok, fine del maxi riepilogo, sarebbero in realtà tante altre robe più piccole da aggiungere, dettagli, dettagli non così magari marginali, però è giusto per darvi un quadro generale di quello che è successo. Veniamo a qualche considerazione, la cosa che più mi è balzata agli occhi è un po' una narrativa abbastanza diffusa fra diversi media, non tutti senza generalizzare, di come i partiti facessero i capricci mentre ad esempio Draghi era prima in Algeria a procacciarci il gas di cui abbiamo bisogno o insomma a fare cose serie, o di come stiamo mandando via l'unico italiano che gode di considerazione e stima a livello internazionale e così via. Ora, al di là del giudizio di merito, il fatto è che non è esattamente così, nel senso che ogni elemento in gioco in questo caso ha un po' le sue responsabilità di questa crisi e Draghi può anche essersi legittimamente rotto le scatole dei giochi politici del Parlamento, ma un discorso come quello che ha fatto stamattina evidentemente contemplava anche un esito come questo qua. Ed è un po' ipocrita far finta che non sia così. Anche il continuo richiamo alla responsabilità mi suona un po' storto, nel senso che è una responsabilità che vuol dire un po' meno democrazia. Ora è vero che siamo nel mezzo di una crisi enorme fra pandemia, guerra, inflazione, crisi economica, è anche vero che lo siamo da due anni e mezzo e lo saremo presumibilmente per un bel po'. Il Covid ha inaugurato l'era delle crisi perché nei sistemi complessi le crisi vengono a grappoli e abbiamo tra l'altro la madre di tutte le crisi, quella ecologico-climatica, che continua ad aggravarsi. Ora sappiamo bene che la democrazia rappresentativa elettiva non è un sistema adatto a gestire le crisi, né a gestire la complessità, e abbiamo due strade. Possiamo reagire con meno democrazia e quindi andando verso forme più autoritarie o invece reagire migliorando i nostri sistemi democratici, anche rivoluzionandoli, se volete, prendendo ad esempio spunto da, non so, democrazia deliberativa o governance dinamica ed ecco, dobbiamo decidere un po' in che direzione andare. Ovviamente la prima strada, quella autoritaria, ha il vantaggio che sappiamo bene come farla ed è più semplice, ha lo svantaggio che tendenzialmente non funziona, a meno di rarissimi casi di dittatori illuminati. Però non è che ne veda così tanti all'orizzonte, commettiamola così. La seconda via è più oneristica, è più difficile, ma ha delle enormi possibilità di avere un impatto migliorativo sulle nostre società, se riusciamo ad applicarla, se vogliamo applicarla, cosa per niente scontata. Comunque, oggi intanto sapremo con ogni probabilità cosa ci riserva il futuro prossimo e se, come sembra, Draghi si dimetterà e si andrà al voto, saluteremo per l'ultima volta un Parlamento fatto da 945 parlamentari, perché le prossime elezioni ne leggeranno solo 600. Vabbè, è un dettaglio, però è anche questo un elemento di novità. Cambiando argomento, ma nemmeno troppo, vi ricordate abbiamo accennato a Draghi che andava in giro a procacciare gas per il nostro paese. Ecco, devo ringraziare il collega Paolo Cignini per avermi segnalato un articolo di Altra Economia che mostra come, dati alla mano, buona parte di quel gas l'Italia lo vende all'estero. E sono un po' le magie dei mercati, ora capiamo com'è mai. Comunque, partiamo anche qui dai dati. In pratica, da un lato c'è il governo che fa i salti mortali per procacciarsi quantità sempre maggiore di gas, riattiva i giacimenti italiani, dicendo che serve a riempire le scorte in previsione di ulteriori tagli o forse di uno stop completo delle importazioni di gas russo, ma la realtà è che le esportazioni di gas dall'Italia verso altri paesi sono schizzate, come mai prima di adesso. Vi dico giusto qualche numero per rendervi un po' l'idea di cosa stiamo parlando. Nei primi 5 mesi del 2020 l'Italia esportava 103 milioni di standard metri cubi, SMC, che sono più o meno l'equivalente dei galloni o dei barili per il petrolio, per il gas. Comunque, non è importante l'unità di misura, l'importante è che teniate a mente il numero 103. Nel 2021 erano già diventati 254, quindi più del doppio. Volete sapere quanti sono nei primi 5 mesi del 2022? Parliamo sempre dei primi 5 mesi degli anni, eh? Sono diventati 1467, quasi 15 volte rispetto a due anni fa. Più del gas che abbiamo estratto in Italia, nello stesso periodo. E sapete perché succede questa cosa? Semplicemente perché conviene. Perché i prezzi del gas sono altissimi, sono così alti, che conviene di più venderlo e fare profitto che stiparlo e fare scorta per l'inverno. È la magia dei mercati, come dicevamo. Va bene, al volo, prima di chiudere, due notizie sempre di politica, ma che arrivano a due paesi esteri. La prima è che il Parlamento dello Sri Lanka, come prevedibile, ha eletto come nuovo presidente l'ex primo ministro Ranil Vikre-Mezinghe, facendo infuriare i manifestanti che avevano fatto cadere il presidente e il primo ministro stesso. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio alcune puntate dei giorni scorsi per rimettervi in pari sotto fonti e articoli nella pagina rassegna stampa Italia che cambia.org. La seconda notizia è che invece la lista dei candidati per sostituire Boris Johnson, sia come leader del partito conservatore, che di conseguenza e soprattutto come premier britannico, si è ridotta a due sole figure. Rishi Sunak, ex ministro dell'economia, fra i primi a dimettersi dal governo, e Liz Truss, attuale ministro degli esteri, che invece ha una scelta più di continuità con il governo di Boris Johnson. Va bene, direi che abbiamo parlato abbastanza. Io mi fermo qua, vi saluto, vi do appuntamento, a domani con una nuova puntata di mia assegna, sempre per dire alle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che cambia, anche sulla pagina rassegna stampa di Italia che cambia.org. E con un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.